A Porta in Penoca gli alunni delle terze classi A e B della scuola Marullo, parte dell'istituto scolastico comprensivo Pirandello diretto da Anna Ganga Rossa, hanno realizzato un video a conclusione del progetto extracurriculare lettura. A Porta in Penoca gli alunni delle terze classi A Porta in Penoca gli alunni delle terze classi A Porta in Penoca gli alunni delle terze classi A Porta in Penoca gli alunni delle terze classi Grazie a tutti.